Ciao ragazzi, mi chiamo Mirko, sono un ragazzo italiano, specificamente della Sicilia. Oggi mi trovo qui a Bali, bellissima esperienza qui in questo posto magnifico. E oggi sono qui allo studio Taku Taku. Ho fatto un bellissimo tatuaggio alla caviglia con persone veramente professionali, specialmente Alba, che è stato di grande aiuto e di grande maestria soprattutto. Gli ho fatto questo tipo di tatuaggio, un tatuaggio veramente, veramente, veramente bello, tutto disegnato a mano e alla fine ho utilizzato strumenti della grande tradizione dell'Indonesia. Un saluto a tutti i miei amici, è stata una bellissima esperienza e sicuramente con questo tatuaggio avrò qualcosa da raccontare, una bellissima storia. Thank you so much guys, thank you.